Salve a tutti, sono Alessandro Montagnani e frequento la classe terza L del liceo scientifico Ulisse Lini di Pisa. Personalmente sono sempre stato molto attratto dal mondo della divulgazione scientifica, perciò quando mi si è posta la possibilità di partecipare al premio Asimov ho colto l'occasione e mi sono iscritto. Guardando la lista dei libri e degli argomenti da essi trattati, non ho esitato a scegliere il libro L'urro dell'universo di Dario Menasce, in parte perché incuriosito dal titolo e in parte perché trattava di un argomento del quale che aveva destato in me molta curiosità e del quale avevo sentito molto parlare, ma di cui in realtà non avevo capito molto. L'argomento è ovviamente il fenomeno delle onde gravitazionali. Effettivamente sono rimasto molto soddisfatto della scelta che ho fatto. Infatti il libro non solo tratta in maniera semplice e chiara del fenomeno e delle relative cause, argomento che non è tra i più facili. Ma si dedica anche a spiegare come l'uomo è entrato a conoscenza di questo fenomeno e di come è riuscito a rilevarlo, aprendo così un'interessante parentesi sull'aspetto psicologico della vita degli scienziati e permettendo al lettore di immedesimarsi. Un'altra cosa importante nel processo di immedesimazione è la storia che fa da cornice al filone della spiegazione scientifica, ovvero la storia di un ragazzo che per una serie di circostanze si trova a far visita all'osservatorio Virgo e il quale, grazie alle spiegazioni di alcuni scienziati, si interessa maggiormente alla scienza. Questo libro perciò ha raggiunto quello che secondo me è lo scopo principale della divulgazione scientifica, ovvero quello di trasmettere conoscenze, dare delle informazioni accontentando il lettore, ma senza saziarlo, ovvero amplificando ancora di più la sua voglia di conoscenza nel mondo della scienza. Questa per me è stata un'esperienza molto bella, perciò ringrazio il premio Asimov per aver permesso di interessarmi maggiormente a questo campo e per aver potuto esprimere la mia idea al riguardo, con la speranza che la recensione che ho scritto invogli qualche lettore a leggere il libro che ho recensito o più in generale a interessarsi nel fantastico mondo della scienza. Grazie a tutti!